Mentre i sindaci dei comuni di Auletta, Caggiano, Polla, Atena, Lucana, Sala Consina, Padula, Montesano e Casalbuono prendevano visione della comunicazione giunta da Italferro di Gruppo Ferrovie dello Stato per prepararsi ad accogliere i tecnici per i rilievi, dal Cilento una delegazione aspettava di incontrare i referenti di RFI per chiedere di rivedere il progetto. Aggiungere a Roma Simone Valiante insieme ai sindaci dei comuni di Sapri, Ceraso, Vallo della Lucana, Laurito e Centola il cui sindaco stanziò la vicepresidente della provincia lo scorso 7 aprile aveva espresso parere favorevole in consiglio provinciale alla mozione per impegnare la provincia di Salerno a sostenere una stazione di alta velocità nel Vallo di Diano. La costituzione della delegazione pare però alimentare contrapposizioni nello stesso Cilento. Dopo la pubblicazione del comunicato stampa è arrivato il commento di Luca Cerretani, assessore comunale a Torchiara e capogruppo del PD in consiglio provinciale che attacca la delegazione e chi la sostiene condannandone l'atteggiamento divisorio. Sorrido, scrive Cerretani, nel leggere di rappresentanti istituzionali di un territorio che non ha formalizzato deleghe. Il Cilento ha una superficie ampia e variegata che inizia da Pestum e raggruppa la maggior parte della popolazione intorno alla città di Agropoli. Se poi l'intento della delegazione è la creazione di un tratto pisciotta-sapri, la legittimazione può dirsi piena, ma sicuramente non rappresentativa della comunità cilentana, alimentando unicamente meccanismi divisivi e campanilistici. Cerretani è solo uno fra i tanti che si è smarcato dalla contrapposizione nata sull'alta velocità. Tra i primi a tirarsi fuori, nella diatriba, il sindaco di Capaccio Alfieri, che, chiarito il progetto, aveva già individuato nuovi obiettivi per il Cilento, partendo dal potenziamento dei collegamenti con l'aeroporto Costa da Marfi, su cui si concentra la sua azione politica. Anche da Sapri Giuseppe del Medico, dopo un'iniziale chiamata alla mobilitazione, aveva sollecitato la necessità di far fronte comune con tutto il territorio per sostenere la realizzazione della seconda ipotesi al vaglio di RFI, ossia il collegamento ferroviario con la Tirrenica a Sapri e non a Praia. Ora lo scritto di Cerretani, che di fatto delegittima la delegazione dalla volontà di interloquire per tutto il territorio, definendone invece i confini di rappresentatività. E mentre parte del Cilento continua ad opporsi alla tratta che interessa il Vallo di Diano, dalla Basilicata e dalla Calabria arriva invece il sostegno e la gioia per la scelta di RFI di puntare sul Vallo di Diano. Addirittura dalla Calabria sono pronti a sostenere la riattivazione della Siciliano Lago Negro, immaginando anche un ampliamento del percorso.